Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio a tutti. Un tavolo un po' particolare questo. Io, voi non potete vedere la location in cui mi trovo, ho cambiato stanza, ho cambiato postazione, adesso sono fra due mappamondi, non si possono vedere ma sono bellissimi, con un soffitto affrescato meraviglioso in mezzo ai libri vecchi, dove è luogo migliore per parlare di digitale e di scuola, tradizione, cultura, libri, cartacei e digitale. Io ringrazio veramente Alessandra Rucci, dirigente del Benincasa, che conoscete tutti, quindi non ho bisogno di presentarla. Immagino Giancarla Spurio è una docente dell'Istituto Turoldo di Zogno e Angelo Canio D'Alessio, che è un dirigente della scuola primaria di Cellammare. Perché ho chiesto, e qui con me ho trattenuto, perché è da stamattina che è qui con noi, Stefano Ghidini, che però, a cui non hanno dato il microfono e quindi è posizionato lì. Io faccio da ponte, se avete delle domande da fargli, di tipo tecnico, dato che parliamo della didattica a presenza, didattica a distanza, come riprogettare una scuola, ci sono gli ambienti, poi lui ha qualche problema sulle sedie a rotelle, no? Che conosciamo, perché le provocazioni stanno a mille. Scusate, ma un po' mi voglio rilassare dopo questa giornata, che vi assicuro non è stata assolutamente semplice da affrontare. Comunque, se avete delle domande da fare, anche a Stefano, sull'ambito tecnologia e ambienti, è il Redi, è qui con noi anche lui. Quindi ringrazio tantissimo le persone che si sono iscritte a questo tavolo, molto numerose, peraltro, e cosa devo dire dopo una giornata così intensa di stimoli, no? E di spunti sulle problematiche inerenti alla scuola, su cosa vuol dire passare da una didattica in presenza, didattica a distanza, cosa vuol dire riprogettare la scuola. Qui ho dei dirigenti scolastici che sanno e ci diranno, no? Cosa vuol dire riprogettare una scuola che si trova in una situazione così diversa, perché non credo che sia soltanto la sicurezza, ed è già un grossissimo problema evidentemente, la formazione alla sicurezza, che non è sia ai docenti che ai ragazzi, ma proprio il pensare ad una scuola che non è più in presenza, che non è più la scuola di febbraio, che ce lo siamo detto stamattina, abbiamo sentito degli esperti, secondo me, di altissimo livello, che devo sempre ringraziare per la loro disponibilità, ma tutti hanno detto la stessa identica cosa, torniamo a scuola dicembre, gennaio, non lo sappiamo, ma quando torneremo a scuola non sarà più la scuola di febbraio. C'è stato questo periodo che ha sconvolto tutto, ci ha messo di fronte ad una realtà completamente nuova, completamente diversa, dove io insisto, dato che sono un po' fanatica e credo sempre di essere estremamente ripetitiva, perché in fin dei conti sono solo dieci anni che lo dico, quindi ho ancora altri dieci anni per continuare a dirlo, e battere il chiodo sempre, io dico sempre un'unica cosa, fondamentalmente, la riprogettazione di una scuola passa prima di tutto da una riprogettazione didattica. Se non si fa una didattica diversa e quindi ambienti, arredi, modalità di organizzazione proprio della governance della scuola, deve girare intorno a una riprogettazione didattica. Se non si fa questo, si parte da un punto di vista, dal mio modestissimo punto di vista, ma sbagliato, perché si pensa più alla scatola, ma poi il contenuto ci mettiamo quello che è abbastanza tradizionale. Quindi ci troviamo di fronte, stamattina leggevo i commenti che arrivavano man mano che noi parlavamo, c'erano scuole che dicevano, ma non è vero, di fatto trasferiamo l'orario scolastico dalla presenza, lo stesso orario scolastico, talvolta non capita, per carità e auspico che talvolta non capiti, ma so con sicurezza che molto spesso capita. Perché? Perché le scuole non hanno pensato a due orari scolastici diversi, non hanno pensato, non si sono preparati a che cosa. Se la scuola è tutta in presenza, faremo una didattica di questo tipo con questo orario e con questa progettazione didattica. Se la scuola è una didattica mista, queste le scuole secondarie di secondo grado erano già più preparate, perché avevano già la divisione in gruppi, quindi magari una parte in presenza, una parte a distanza, scaglionati anche negli orari di accesso, eccetera, lo sappiamo perché i ragazzi più grandi avevano queste problematiche e quindi erano già un po' più pronti. Allora, se la didattica però ci costringerà ad essere, cioè il problema pandemico ci costringerà a far stare i ragazzi anche di più a casa, dovremmo pensare ad una didattica che tenga in considerazione questi due aspetti, ancor più laddove poi invece ci dicano si chiude la scuola come è accaduto e quindi una terza progettazione laddove c'è una didattica a tutta a distanza cosa succede? Perché io mi sono posta un problema quando sentivo parlare della didattica anche delle scuole secondarie di secondo grado, questo lo dicevo sia ad Alessandra, ci siamo sentiti su questo punto, dicevo ma al di là dell'organizzazione dei gruppi, va bene, un gruppo viene prima, un gruppo sta a casa, alcuni fanno lezioni a casa, altri saranno in presenza, ma di fatto tutti gli ordini di scuola, dico tutti, si sono trovati di fronte ad una situazione completamente nuova, cioè noi avevamo sempre 25 ragazzi in classe e dico 25 per dire un numero ottimale, io ne avevo 32, 33 però diciamo 25, di questi 25 2, 3, 4 si ammalavano di influenza e stavano a casa, 3, 4 giorni, 5 giorni e poi tornavano a scuola e tutto andava bene. Ma in questa situazione i ragazzi che si assentano, ma si assentano perché fanno così, specialmente i piccolini sto parlando, i bambini piccoli, basta un colpo di tosse e oddio che succede, state a casa 3 giorni, il pediatra deve dire, ma oppure c'è un problema di contatto, il genitore, il ragazzo che si assenta molto più frequentemente, cioè il docente si trova di fronte ad una classe fluida, oggi ci sono dei ragazzi presenti, domani non sappiamo chi sarà presente, e anche in una situazione di didattica in presenza, cioè l'assenza è molto più frequente, l'assenza è anche più lunga, quindi questo ci comporta una didattica che tenga conto di una fluidità di ragazzi in classe e una fluidità, e che cosa accade con quelli che sono a casa? Come facciamo a tenerli legati alla scuola? No, perché io ho delle oggettive difficoltà a parlare con un monitor davanti, infatti tutti mi dicono, ma dovresti registrare dei webinar, devi fare delle pillole, devi raccontare la didattica, la progettazione, oh io vi giuro trovo delle difficoltà enormi a parlare ad un monitor, meno male che io di fronte a me adesso ho tre persone che guardo negli occhi e con cui interagisco empaticamente, ma io se non ho nessuno di fronte trovo un'enorme difficoltà a parlare ad un monitor anche per breve tempo e concettualizzare. Allora io mi domando come può, queste sono le domande che io vi pongo, perché non lo so. Allora io ho due dirigenti scolastici e una docente, parto da loro e vi chiedo, ma come fa un docente ad avere dei ragazzi di fronte, ad avere i ragazzi a casa che in contemporanea si collegano con la classe, perché questi molti lo fanno, quindi il docente deve parlare a chi? Parla al monitor e guarda quelli a distanza, come molte scuole stanno facendo, oppure parla con quelli in presenza e quelli a distanza si collegano e basta, perché io non ci riuscirei a far tutte e due le cose in contemporanea, però vi assicuro che tante scuole, questo lo so per sicurezza, con Iparadigitale abbiamo molti contatti in questo senso, molte scuole salvano un po' la situazione, o salvavano prima del lockdown totale, salvavano la situazione dicendo, ma no facciamo collegare i ragazzi, mettiamo delle webcam in classe, per cui seguono quello che fa il docente, ma seguono quello che fa il docente, seguono il lavoro in classe, ma come si fa a fare una cosa di questo tipo? Io personalmente non ci riuscirei. E quindi, e però, quelli che sono a casa cosa facciamo? Anche in una situazione, quando torneremo, quando torneremo in classe e avremo ancora dei ragazzi positivi, dei ragazzi asintomatici che comunque hanno fatto il tampone, devono aspettare il tampone, eccetera, cosa facciamo? Questi ragazzi come li recuperiamo? Quindi io veramente credo che sia una cosa estremamente complessa poter rispondere positivamente a tutte queste esigenze, perché sono esigenze che altrimenti la dispersione va a mille, nel senso che perdiamo questi ragazzi evidentemente. Però io ho una nipote piccola e mio figlio mi dice, Anna Chiara, un colpo di tosse sta a casa tre giorni, è tornata a scuola due giorni, in classe ne mancano otto, poi c'è un via vai veramente notevole, sto parlando dei bambini piccoli, sto parlando primarie, scuola dell'infanzia. Quindi, e già partirei da questo problema, che è un problema di ordine organizzativo, se vogliamo, perché questo però, organizzativo da un certo punto di vista, ma l'organizzazione implica una riprogettazione didattica, perché altrimenti come si fa? Faccio la mia lezione tradizionale, è normale? Non so poi i risultati, poi ci credo che se noi trasferiamo ciò che facciamo in presenza in online, io lo dico sempre, a priori è già perdente, non può essere, perché cambia tutto dall'online alla presenza. Ci sono aspetti positivi, che secondo me andrebbero valorizzati comunque, ma ci sono anche tante criticità, se trasportate in questa maniera. E questo è il primo stimolo che io vorrei, e che chiedo a tutti coloro che ci stanno seguendo, se ci danno delle indicazioni, se vogliono chiederci qualche cosa, ma naturalmente lo chiedo in prima battuta ai miei, ai doceni, agli amici che con me sono qui a tentare di fare un quadro di quello che sta accadendo in Italia e come le scuole stanno rispondendo. Alessandra, se ci vuoi aiutare? Grazie prima di tutto, Alessandra. Grazie, Dianora, grazie, buonasera a tutti, anche a tutte le persone che sono collegate a questo tavolo con noi. Ti rispondo, Dianora, perché la tua domanda è una domanda molto calzante e riprenderei anche le parole di Roberto Maragliano. Stamattina Maragliano ha detto una cosa importantissima, bisogna stare nel digitale pensando alle caratteristiche del digitale e quindi è implicito che non sia possibile in alcun modo riprodurre le dinamiche che noi cerchiamo di mettere in atto in presenza nell'ambiente digitale. Quintarelli diceva abbiamo fatto bene la didattica a distanza, che cosa abbiamo fatto e che cosa faremo ancora? Il problema nasce proprio dal fatto che la scuola era naturalmente impreparata, era impreparata e non poteva esserlo, perché se noi abbiamo delle didattiche, delle learning, che sono anche ben consolidate nell'ambiente universitario, perché c'è anche un'esperienza di anni su corsi a distanza, anche in ambiente universitario, la scuola non ha questa preparazione perché non era pensabile, non era pensabile e la scuola non era fatta per essere condotta interamente a distanza. Era però da sapere e da essere preparati a lavorare in un ambiente blended, perché le sollecitazioni che sono state fatte almeno dal 2015 con il piano nazionale scuola digitale andavano proprio in questa direzione, in una direzione cioè di due ambienti che si potevano utilmente integrare tra loro, a patto che però ci fossero le pedagogie giuste nel retroterra, ci fosse la progettazione giusta e ci fosse una conoscenza molto solida delle dinamiche dell'un ambiente e dell'altro. Quindi la chiave di lettura secondo me sta tutta quanta qui. Il fatto stesso che noi abbiamo coniato dei nomi, abbiamo parlato di didattica a distanza, perché abbiamo dovuto parlare di didattica a distanza quando un nome per definire la didattica online c'è, si chiama e-learning? Perché abbiamo dovuto parlare di didattica digitale integrata quando un nome c'è già ed è blended learning? Questi nomi che sono stati coniati testimoniano uno straniamento, testimoniano uno spiazzamento, lo spiazzamento cioè di una scuola che si è dovuta reinventare, e che si è reinventata anche nei nomi. Però ecco, come giustamente tu dicevi, bisogna andare avanti. Bisogna andare avanti e come ha detto Quintarelli, succederà ancora? Cioè pensiamo di poter essere, io me lo auguro che saremo almeno per questa generazione fuori dall'emergenza con un vaccino e che non ci sia un altro spillover che ci porti a un'altra pandemia. Però di fatto questa circostanza ci ha insegnato che dobbiamo essere preparati e che il digitale, la scuola, la può salvare. Però a un certo momento, poi i miei co-panelist mi diranno se la pensano allo stesso modo, a un certo momento è accaduto qualcosa nel dibattito pubblico. Mentre all'indomani del lockdown c'è stata una grande energia creativa, c'è stata una ricerca, anche un dialogo molto operoso per cercare di reinventarsi nel digitale, a un certo punto il digitale è sembrato il male di tutti i tempi e si sono impiegate tutte le energie possibili e immaginabili per ripensare alla presenza, a un certo punto secondo me anche sottovalutando e dimenticando la necessità di dover fare i conti ancora con l'ambiente digitale. Per cui le energie che sono state profuse nel dibattito sui banchi, nel dibattito sugli ambienti, che sono sicuramente fondamentali, perché poi nella scuola in presenza noi dovremo tornare, però hanno buttato un po', dico io, il bambino con l'acqua sporca, cioè il digitale a un certo punto è sembrato il male, la didattica a distanza è sembrato il male e ancora in una parte del dibattito pubblico la didattica a distanza sembra essere il male. Ci si dimentica invece che il digitale ha salvato la scuola, cioè ha tenuto viva la scuola e gli ha dato una possibilità di esistenza. Io sono stata bambina all'epoca dei grandi terremoti o all'epoca delle grandi catastrofi naturali di cui si parlava, parlava anche Bianchi oggi. Io mi sono reso conto del problema quando c'è stato il terremoto. La scuola senza il digitale si è interrotta. Io sono stata per una frana nella mia città mesi senza scuola in quinto anno quando dovevo fare l'esame di Stato. In Irpinia le scuole si interruppero e in tutte le storie dei grandi terremoti. Invece oggi abbiamo un'opportunità grandiosa e quindi questa opportunità va sfruttata al meglio. E torno così, non rubo troppo tempo anche ai miei colleghi, sulla domanda, Dianora. Come fa un docente a seguire una parte della classe in presenza e una parte della classe a distanza? Io su questo probabilmente risulterò impopolare perché magari andrò contro scelte che i miei colleghi sono stati costretti a fare o che pure hanno fatto sicuramente con la migliore delle intenzioni. Non si può. Io ti rispondo non si può. Cioè non si può fare 50% della classe in presenza e 50% della classe a distanza e far seguire dei ragazzi a casa una lezione come se fosse uno spettacolo televisivo. Va proprio radicalmente cambiata l'ottica. Se proprio è necessario fare in questo modo, se non è possibile salvaguardare l'unitarietà del gruppo classe che sarebbe invece l'optimum in modo tale che gli studenti possano seguire una proposta omogenea per caratteristiche e che sia o tutta in presenza o tutta a distanza. Ma se questo proprio non è possibile, allora la modalità della didattica va radicalmente cambiata. E quindi quello che si fa con quella metà della classe che sta seguendo in presenza e quella metà che segue a distanza non può essere sicuramente la lezione, chiamiamola così frontale, la spiegazione. Ma bisognerebbe proprio ribaltare, questo anche veramente quando facciamo il 100% a distanza, bisognerebbe ribaltare la modalità, secondo me, e lavorare sugli input frontali in modalità flipped learning, cioè far fruire, come succede nelle learning normale, far fruire la lezione in un momento asincrono, registrata in modo tale che lo studente possa ritornarci sopra, commentarla e con tutte le proposte anche guidate. E in sincrono il momento è quello del lavoro collaborativo che sia condotto con una discussione didattica, che sia condotto con una proposta su una piattaforma collaborativa, con un confronto con tutti quelli che sono gli strumenti che noi abbiamo a disposizione. Ma ecco, secondo me l'unica possibilità per salvare una proposta di questo genere è rovesciare la proposta e quindi pensare di essere lì insieme e in sincrona, in ambienti diversi, soltanto se si attua un confronto, un lavoro collaborativo e sicuramente non una lezione, tra virgolette, spettacolo. E mi taccio, di cose da dire ce ne sarebbero veramente moltissime, però ecco, mi sembrava importante fare un focus su questo. Abbiamo fatto confusione perché non abbiamo le conoscenze, perché non abbiamo studiato le didattiche delle learning, del blended learning, non eravamo tenuti a farlo, però adesso non possiamo far finta di niente. Grazie Alessandra, ma io ti dirò che a giugno infatti avevo pensato ad una proposta che ti avevo anche inviato, dove proprio c'era il discorso del fare delle lezioni tipo frontali, registrate, addirittura io facevo un passo ancora più in avanti. Cioè la mia idea è quella di accorpare più discipline in maniera tale da lavorare per nodi concettuali, veramente. Io continuo a dire, guardate che nelle learning non ci sono le limitazioni che ci sono nel mondo reale, vale a dire, nel mondo reale tu hai delle divisioni disciplinari, hai degli orari, non puoi fare con presenze, ognuno ha la sua classe, non puoi uscire, cioè non esiste, soprattutto nelle superiori, o anche le medie, c'è la divisione disciplinare, difficile che due docenti riescano a lavorare insieme e poi dove ti metti i tre in cinquanta ragazzi, non è possibile. Nel virtuale tutto questo è possibile, perché queste barriere vengono assolutamente limitate. La mia proposta infatti era proprio quella, per le scuole che hanno questa suddivisione disciplinare, accorpate per no, modi concettuali, lavorate insieme, più docenti alla stessa ora, invece di fare un'ora di italiano, un'ora di storia, un'ora di geografia, fate un'ora e mezza su un nodo concettuale che veda il coinvolgimento di italiano, storia, geografia, lavorate insieme, perché questo implica una visione olistica del sapere, i ragazzi che si abitano a vedere una lezione fatta da più punti di vista, un approfondimento maggiore di un argomento, liberate l'orario di un'ora e mezza ai colleghi che seguiranno come tutor i ragazzi a casa nel momento in cui dovranno lavorare in gruppi. Queste sono le mie proposte sempre di, quando si parla di lavoro per nodi concettuali, io la vedo veramente così, è per questo che io dico che ci vorrebbe una riprogettazione della didattica. le famose unità di apprendimento, ormai è una parolaccia, usare unità di apprendimento e didattiche per competenze è diventata una parolaccia, quando tu lo dici tutti non ridiscono, oddio che parola, però dato che, vero, ce la raccontiamo da dieci anni, no Alessandra, questa cosa, la didattica per competenze questo ci diceva già dieci anni fa, cioè quando pensavamo a classi che lavoravano insieme, a studenti che lavoravano insieme in forma libera, a gruppi, ma soprattutto la collaborazione, la condivisione del sapere da parte dei docenti che dovrebbero interagire su nodi concettuali. Allora, questo risolverebbe altri problemi, altri problemi. Questo richiede, dico, altra riprogettazione, quindi è tutto un mondo da guardare, anche perché io qui ho due dirigenti e una docente, io non so l'esperienza, ma io ho avuto 42 anni di esperienza di scuola e laddove ho avuto un dirigente illuminato che mi lasciava fare, che dava un input al collegio docenti, dicendo, cioè spingendo ad un indirizzo di questo tipo, non dico che il collegio docente approvasse, perché c'è sempre una barriera di quelli che ti dicono assolutamente no, però un passo avanti lo fai. adesso con la didattica a distanza questo passaggio dei docenti che ti dicono no, io no, perché la tecnologia non la voglio vedere, sono stati costretti invece ad affrontarlo e quindi hanno capito anche loro che bene o male hanno dovuto mettersi in gioco. Questo è un passaggio epocale, perché per la prima volta anche coloro che negavano la tecnologia a scuola si sono trovati costretti a dover lotare e poi l'hanno fatto anche bene per carità di Dio perché come dicevo stamattina si impara facendo quindi c'è stato un salto di competenze digitali però è anche giusto che il rifiuto della tecnologia quindi la demonizzazione della didattica a distanza come dicevi ma come dicevamo anche stamattina nei panni stamattina è stata pesante perché? Perché ha provocato una grande fatica per i docenti perché si sono dovuti reinventare tutto talvolta con risultati positivi ma talvolta anche con risultati negativi perché se un ragazzo incomincia a perderlo non si collega non ti vuole seguire non ha voglia eccetera questo comporta poi una dispersione scolastica ancora maggiore per cui io ho visto tutti i docenti arrivare a giugno sconvolti sconvolti da un punto di vista fisico perché anche loro hanno passato miliardi di ore davanti a un computer da un punto di vista psicologico perché comunque hanno dovuto supportare i propri studenti ad affrontare una realtà totalmente nuova da un punto di vista di fatica perché anche soltanto prepararsi una lezione un powerpoint o registrarsi un video non è mica così banale così semplice quindi è chiaro che di fronte ad una fatica così incredibile no la didattica a distanza anche no rimaniamo il più possibile in classe e continuiamo la nostra vita quello che ho detto stamattina io non so quello che accadrà a gennaio dicembre gennaio quando torneremo a scuola ma il rischio ma guarda che l'abbiamo visto in questi anni il piano nazionale scuola digitale ancora prima quando c'è stato questo bombardamento solo sull'uso della tecnologia coding robotica coding robotica se non sai il coding e la robotica non sei un innovatore e le app e i software e le piattaforme c'era un tale bombardamento che la gente a un certo punto tornava indietro e diceva sì vabbè ho seguito il corso non ci ho capito niente non mi serve per carità rimango ancorata alla mia tradizione quindi talvolta quando c'è tanta fatica o tanto o non ne capisci a fondo veramente l'utilizzo perché tanto a scuola torneremo e quando torneremo io quello non lo guardo proprio più questo per me è il rischio maggiore è il rischio veramente che ci siamo visti noi cicli ricicli nel momento in cui si è lavorato volevo sentire sì sì dimmi Giancarla volevo io ovviamente parlo da docente quindi mi trovo con due dirigenti scolastici e quindi per me è anche un po' imbarazzante nel senso che il lavoro poi in classe lo facciamo noi quindi siamo noi in prima fila con tutta una serie di responsabilità che vanno anche al di là del semplice percorso formativo che ci spetta quindi abbiamo comunque irresponsabilità enorme cosa è successo con la data perché oggi è stato fatto veramente un bel percorso e non si è puntato solo alcuni forse hanno puntato l'accento su quello che è stato invece proprio lavoro del docente molti di noi erano già abituati a lavorare con il digitale quindi non è proprio almeno io parlo della zona in cui vivo io sono in Lombardia molte scuole avevano già fatto un percorso e di formazione e anche metodologico soltanto che la DAD ci ha portato di fronte a un problema più grande rispetto a quello che erano le nostre possibilità cioè improvvisamente sospensione delle lezioni e lavoro da casa quindi dover integrare in maniera diversa quello che sapevamo fare a scuola per alcuni è stato ancora più difficile perché se il metodo didattico rimane ancora quello solo trasmissivo l'utilizzo del digitale diventa pesantissimo sia per chi lo fa che quindi non sa come affrontare determinati passaggi e sia per lo studente che per 50 minuti rimane attaccato allo schermo e sentire un insegnante che continua a parlare che continua a spiegare e che quindi diventa l'attenzione diventa veramente pesante però il discorso qual è? Noi abbiamo avuto tantissimi mesi quindi fino a mesi di maggio abbiamo davvero come dice Dianora tentato in tutti i modi di portare avanti il nostro lavoro quindi un aspetto positivo della DAD è stato sicuramente questo che pur avendo le elezioni sospese in presenza noi comunque siamo andati avanti quindi questo è già un aspetto positivo è vero che ci è costato un'enorme fatica sia emotiva sia fisica perché comunque siamo rimasti chiusi a casa i contatti con i colleghi e con le dirigenze soltanto virtuale quindi anche lì passaggi velocizzati perché di fatto collegati in tanti non si poteva intervenire tutti come normalmente si faceva in presenza che magari c'era la possibilità anche di di parlare con il vicino di commentare di fare di portare avanti il dialogo in maniera più anche più costruttiva tra di noi si sa i colleghi docenti i vari consigli di classe era diventato tutto molto distaccato perché anche consigli di classe con i genitori diventava proprio tra virgolette un dovere il doverlo fare perché comunque la scuola richiede questi passaggi però non c'era più quell'atteggiamento quell'atmosfera che normalmente abbiamo nei consigli di classe però quello che io volevo sottolineare qui e do ragione a Dianora è che comunque abbiamo fatto un'esperienza un'esperienza importantissima che ci deve portare davvero adesso come si è stato detto oggi a riprogettare il presente ma pensando al futuro cioè è questo il discorso noi adesso un minimo di domenichezza con determinati strumenti li abbiamo ma adesso c'è da riprogettare da riprogrammare da rivedere davvero proprio in presenza come ristrutturare tutto il nostro percorso per non buttare via le esperienze fatte comunque anche sugli aspetti negativi perché anche dagli aspetti negativi possiamo trarre delle indicazioni fondamentali capire perché perché sono insoddisfatta perché di fronte ad un test che ho somministrato via online non sono soddisfatta e continuo come docente a raccontarla hanno copiato non è così se fossero state in presenza avrei controllato meglio ecco perché continuiamo ancora a dare importanza a dei test strutturati perché continuiamo ancora a vivere questo rapporto di valutazione fortissima del nostro lavoro in questa maniera secondo me dove abbiamo maggiore avuto maggiore criticità dove noi cominciamo a dire basta la DAD no non si fa più ovvio nessuno è contento di fare lezione da casa ma da questa esperienza cosa ho capito che non va cosa anche su di me su quello che io ho fatto non mi è piaciuto non ha funzionato con i ragazzi dove non sono state incisi perché poi alcuni percorsi fatti con la DAD e con i ragazzi sono stati bellissimi soprattutto con la scrittura collaborativa cioè noi abbiamo lavorato con loro vedendo lavorare scrivere e noi da questa parte dare dei consigli inseriti con i commenti e vedere proprio nascere dei prodotti cooperativi bellissimi per queste cose non le abbiamo dimenticati per dire proprio come il curso di pazienza per riproduttare effettivamente grazie ho preso troppo la parola ma ho cercato di rispondere a una domanda di anni che diceva perché molti di noi non accettano di mettersi in gioco perché è difficile perché è difficile rivedere tutto il nostro metodo di insegnamento cioè se io vado in classe prendo il libro e dico quello che c'è scritto sul libro e poi invece devo ristrutturare tutto il mio percorso è una fatica enorme che mi metto in gioco da un punto di vista sia professionale sia anche da un punto di vista delle mie conoscenze scusa Giancarla scusami siete voi che state guardando le chat io appunto adesso avevo risposto a questa di Giovanni perché noi li aspettavo dalla regia infatti vedevo che non c'erano richieste di messaggi se date qualche indicazione anche dei messaggi che stanno arrivando perché non vorrei il webinar io vorrei proprio ascoltare anche che cosa ci chiede la rete e i partecipanti a questo tavolo mettiamo in gioco ecco la domanda che era posta appunto da Giovanni era perché molti di noi non si mettono in gioco perché è così difficile mettersi in gioco con la data l'unica domanda che è arrivata ce ne sono altre adesso te le dico ma non so se volete rispondere voi a questa aggiungere qualcosa io volevo dire una cosa no le parolacce di cui ho parlato Dianora prima unità di apprendimento didattica per competenze sono le parolacce che stanno alla base di una didattica efficace con il digitale se non c'è alla base una progettazione didattica di quel tipo è un modo di intendere la didattica come costruzione della conoscenza apprendimento anche insieme sociale apprendimento non di nozioni ma di competenze noi siamo completamente fuori ecco perché forse alcune persone non si mettono in gioco probabilmente perché anche l'impianto didattico l'impianto che c'è come retroterra non è un impianto che ne favorisce perché è chiaro che se una scuola ha una progettazione basata sui contenuti ha fatto il curriculum quando l'ha fatto per competenze perché lo doveva fare e non ha dato senso e non ha dato valore a quel costrutto e allora la difficoltà a mettersi in gioco è enorme perché il docente probabilmente non ha avuto occasioni di formarsi non ha avuto occasioni di provare modalità didattiche diverse cioè bisognerebbe anche vedere che cosa c'è nel retroterra di queste persone che non riescono a mettersi in gioco poi c'era anche un'altra domanda che era secondo me molto pregnante noi stiamo parlando di fare una didattica diversa e però gli esami di stato di fatto rimangono uguali a loro stessi e questo è un problema ragazzi perché l'impianto dell'esame va cambiato cioè non può essere un esame che rimane identico a se stesso e che cambia perché viene sottoposta allo studente una busta cioè adesso per carità con tutto il bene che forse c'era sotto questa idea sotto questo impianto però di fatto se noi parliamo di abbattere i confini tra le discipline parliamo di lavorare per grandi temi che sono poi i grandi temi che servono se interpretiamo le discipline come lenti per comprendere la realtà è ovvio che non possiamo pensare ai contenuti poi dopo però abbiamo un esame che non ci consente di mettere alla prova gli studenti con queste stesse coordinate è chiaro che c'è una schizofrenia e a un certo punto i docenti non ci capiscono più niente e giustamente c'è un momento ti stanno sono bravi a lavorare in prima seconda e terza poi in quarta e quinta ti cominciano a dire ma io ho l'esame e hanno ragione quindi anche questo secondo me è un tema sì però bisogna anche considerare un altro aspetto secondo me l'aspetto che non ci si rende forse molto conto dei cambiamenti epocali dei nostri ragazzi cioè noi continuiamo a parlare di noi della nostra progettazione di come noi docenti vogliamo impostare la scuola ma io dalle ricerche che ho fatto in questo periodo ne ho fatte veramente parecchie ho proprio constatato il cambiamento epocale che viene dai bambini più piccoli cioè proprio il digitale la tecnologia li ha completamente modificati nell'apprendimento nell'attenzione nella capacità di ascolto nella capacità dello stare fermi e via via salendo tutte queste difficoltà e queste non difficoltà queste modificazioni del modo con cui loro apprendono perché quando stamattina si diceva facciamo una scuola dove il digitale ci deve essere cioè ormai è talmente pervasivo e trasparente ma veramente per i ragazzi è pervasivo e trasparente cioè loro interagiscono in quel modo cioè c'è una società che è cambiata quando parlo di società io lavoro spesso con il professor Lancini lo sento molto spesso cioè è venuto anche dai nostri eventi eccetera quando lui ti parla di società e di famiglia completamente modificata la madre virtuale il padre simbolico e di una società dell'immagine e dei video ragazzi vuol dire che loro hanno proprio cambiato il modo di apprendere allora se noi continuiamo a pensare ad una scuola basata solo sul testo sulla linearità non ci siamo perché loro non ti ascoltano loro non ti seguono loro hanno più un'attenzione al gruppo amici piuttosto che all'adulto cioè c'è tutta una modificazione profonda guarda io sto proponendo in questo periodo l'aula immersiva per i bambini di 3, 4 e 5 anni cioè dove io tento ma qual è lo scopo se i bambini nascono crescono con l'immagine con i video e quello è il loro canale anche di comunicazione di apprendimento attraverso le immagini che le proiezioni dove loro si sentono immersi fermarli fermarli a porre attenzione a ciò che loro stanno in quel momento guardando e ci deve essere dietro una didattica che li faccia attraverso l'empatia l'emozione il trasporto il rilassamento li fermino a riacquistare quelle abilità se vuoi se non competenze che il bambino aveva tradizionalmente cioè l'ascolto il fermarsi su un gioco il fermarsi ad approfondire un qualcosa insieme ai compagni cosa che invece interattività quindi c'è tutto un cambiamento dove la tecnologia è il loro canale comunicativo noi non possiamo più tornare ad una scuola tradizionale questo non ci piove assolutamente quindi una scuola aperta al mondo la conosciamo bene e la divisione disciplinare lo so che è difficilissimo perché esistono gli orari esistono le regole esiste la sicurezza ma anche tradizionalmente e banchi distanti non soltanto per il covid ma normalmente cioè esistono delle quando stamattina si dice sviluppiamo sempre di più l'autonomia dei dirigenti scolastici che devono impostare la scuola in una certa maniera ma tenendo in considerazione che noi non abbiamo più generazioni come ce le avevamo non dico tre anni fa tre quattro anni fa non ce n'è per nessuno quanti ragazzi nella didattica a distanza avete scoperto essere migliori di quello che pensavate perché avevano delle competenze digitali tali da mettersi molto di più in gioco c'è chi si nascondeva c'è chi si nascondeva e chi scappava ma quanti di loro invece attraverso questi canali di comunicazione sono stati capaci di raccontare un proprio processo di apprendimento e di lavorare li avete trovati collaborativi li avete trovati capaci di sviluppare certe competenze o abilità trasformandoli in competenze perché poi vedi c'è anche questo questo discorso dell'esame di maturità io certe volte mica lo capisco però perché insomma io non voglio portare la mia esperienza personale ma vi vedo nel 2011 nel 2011 io ho portato la mia classe alla maturità senza i libri di testo con gli ipad lavorando tutto in nodi concettuali su tutte le discipline tranne la matematica perché l'esame di matematica non poteva essere ma alla maturità sono andati così senza i libri di testo veramente e lavorando tutte le materie in nodi concettuali eppure le conoscenze che loro avevano acquisito erano assolutamente adeguate e hanno fatto un esame di maturità bellissimo tanto che nel 2011 all'esame di maturità i commissari dissero questi ragazzi hanno capacità di interrelazionare gli argomenti sono più profondi quindi non è che la didattica per competenze o l'utilizzo del digitale ti porta a non avere approfondimenti anche sulle discipline sui contenuti anzi come sappiamo bene le conoscenze le acquisiscono molto ma molto di più perché le acquisiscono lavorando loro quindi si impara facendo questo ce lo ormai sono dieci anni che ce lo diciamo quindi io comprendo chi dice matematica l'esame di matematica è quello che bisogna fare ma nelle altre discipline io penso che impostare una didattica collaborativa vera il problema fondamentale io questo lo dico sempre è che i docenti non hanno le competenze cioè tu fai collaborare e condividere i docenti tra di loro fai fare laboratorietà ai docenti tra di loro cioè io non so quanto quanto questo possa si attui nella scuola moderna c'è una domanda che mi dice esiste una piattaforma efficace di condivisione di buone pratiche eventualmente come si potrebbe pensare io ho la mia piattaforma del curriculum mapping dove ho 12.000 13.000 unità di apprendimento e online dove si progetta e si lavora perché prima di trovare le piattaforme per condividere contenuti questo ormai ne è piena la rete ma piattaforme che ti insegnano o ti portano per mano nella progettazione noi l'abbiamo fatta nel 2016 l'abbiamo presentata il curriculum mapping e è ancora oggi estremamente attiva ho tante iscrizioni e tante unità di apprendimento ma attenzione se io apro molte di quelle unità di apprendimento mi accorgo perché dalla lettura delle unità di apprendimento ti accorgi quanto poca riflessione ci sia talvolta come dice giustamente Alessandra fare un'unità di apprendimento diventa un'operazione più burocratica prendo copia quante competenze devono raggiungere ragazzi tutte otto tanto sono trasversali prima o poi qualcuno ci arriva e via tutte otto vuol dire che non si sa fare la didattica per competenze e questo secondo me è stato uno dei grossissimi limiti anche della formazione nella scuola italiana dove la didattica per competenze l'hanno spiegato chi magari la conosceva teoricamente ma che a livello pratico di vita di tutti i giorni del dire simuliamo il consiglio di classe applichiamola forse in classe neanche c'erano entrati e ormai l'avevano applicata e cosa ha portato questo cosa ha portato questo ha portato il fatto che per reazione siccome la didattica per competenze non l'abbiamo capita allora non la facciamo che tanto non ci serve tanto i nostri studenti escono da scuola e loro sicuramente sono bravi perché le conoscenze ce l'hanno e ce lo dicono tutti quanti in Europa o nel mondo perché quando vanno all'estero sono bravissimi siamo ancora lì secondo me allora se posso io intanto leggo qui io vorrei sapere visto che la didattica per competenze è rimasta ancora oggi una chimera cosa materialmente dovremmo fare inoltre è inutile parlare dei curricoli per competenze se poi l'esame di stato non è stato mai cambiato esciamo ancora dal discorso di prima non è una chimera la didattica per competenze la didattica per competenze è una realtà che moltissime scuole fanno però non moltissime tante scuole fanno e tanti e tanti docenti conoscono però c'è anche il problema che magari all'interno se la scuola non sposa questa indicazione nel consiglio di classe tu senti quel docente che dice io lavorerei questo modo ma nel mio consiglio di classe non trovo nessun collega disposto e mi dicono ma no perché io devo fare la didattica per competenze l'unica soluzione è farla disciplinarmente ma incominciare ad impostare un nuovo modo di fare scuola poi la chiamiamo didattica per competenze chiamiamola con un nome nuovo e originale ma senza una didattica diversa che veramente perché perdiamo il senso del protagonismo degli studenti cosa vuol dire renderli protagonisti perché se per protagonismo significa che io do a loro come devono studiare gli do i siti gli do il materiale gli do i miei appunti gli do tutto quanto e poi io dico adesso però ci fate una ricerca elaborate un prodotto ma io ti ho dato tutte le indicazioni scusate quello non è protagonismo per me protagonismo è una scuola fatta dagli studenti e per gli studenti dove il docente li deve accompagnare per sviluppare i singoli talenti uno per uno infatti l'altro giorno provocatoriamente dicevo ai miei formatori quando parlavamo guardate che in una classe non potrà mai fare un'unità di apprendimento ma dovrebbe fare unità di apprendimento una per ogni studente 25 unità di apprendimento incominciare ad impostarle e completarle solo alla fine del percorso capendo quali sono i talenti di ciascuno le necessità di ciascuno ciò che loro desiderano voler sviluppare e accompagnarli nel loro percorso e sicuramente ognuno sarà diverso dall'altro ma se il docente non si pone al servizio dei propri studenti e attraverso questo supporto far acquisire loro quelle conoscenze che sono fondamentali per carità di Dio noi non sappiamo bene cosa vuol dire protagonismo almeno per come la vedo io scusate sto parlando molto ma io la vedo in questa maniera e sono contestata per questo perché mi dicono eh sì certo se vogliamo fare dimmi Angelo non ti voglio interrompere no no però volevo rispondere al tuo input iniziale come fa un docente a fare la didattica mista Cristina ci ha scritto tra le prime ha detto impazziamo vi posso garantire che è così perché io provengo dalla stessa regione di Virginia che ha coniato un nuovo termine che ha detto che la didattica fatta così è un fritto misto cioè dalla Puglia dove praticamente il fatto di avere 6-7 ragazzi in presenza e altri a distanza è diventato istituzionale non un caso legato ai singoli episodi emergenziali tu sei in che senso sono diventato istituzionale sì perché perché da noi in Puglia tutte le classi praticamente tutte le classi adesso non te le so quantificare quante classi ci sono nel totale in Puglia sono parzialmente a casa e parzialmente a scuola tutte e nessuna esclusa e quindi il problema ce l'hanno buttato addosso in una maniera veramente molto rude condivido la risposta di Alessandra quindi non voglio aggiungere niente a quello che ha già detto Alessandra è impossibile cioè la risposta è unica è univoca è impossibile così come diceva Einstein che è impossibile il viaggio nel tempo cioè è un problema che al momento con le nostre risorse tecnologie e competenze non siamo in grado di risolvere però è altrettanto vero tu sai che a marzo di quest'anno dopo le prime settimane di shock che hanno coinvolto tutti noi ci siamo già messi a lavorare per questa nuova idea di scuola cercare di trovare quegli spunti innovativi e non lasciarli morire lì in maniera tale che si potesse dare continuità a questa azione sai l'uso dei social quanto io lo possa condividere perché il social è il canale di comunicazione degli alunni tu hai letto giustamente ogni 3-4 anni cambiano completamente gli stili di apprendimento degli alunni perché vivono in un mondo che nel frattempo è cambiato e la scuola non può stare ferma a fare questo a guardarsi e a chiedersi quanto le competenze o il PNSD siano un aspetto burocratico o altro il tuo spunto che io prendo come un'istigazione a uno step successivo cioè quello di lavorare su alcune competenze che forse come mondo scuola non abbiamo ancora acquisito che sono le competenze del lavorare insieme dell'insegnamento collaborativo lavorare per nodi concettuali far lavorare i ragazzi per team potenziare le capacità comunicative lo si può ottenere solo con l'adeguata formazione di tutti coloro che lavorano nel mondo della scuola non solo scrivendolo da qualche parte se noi ne diventiamo capaci e competenti lo potremo trasferire ai nostri alunni ma questa cosa questa nostra questo nostro rincorrere questo livello di comprensione l'hanno anche segnalato alcuni partecipanti qualcuno diceva i genitori intervengono durante le video lezioni che in sé per sé non è un male cioè condividere la lezione la video lezione condividere il famoso patto di corresponsabilità è quello cioè condividere quali sono i paradigmi dell'educazione è qualcosa che sta al vertice poi di tutto i discorsi che ci vogliamo fare la scuola deve anche imparare a relazionarsi a mio avviso in una maniera differente con le famiglie in maniera diversa rispetto a quella che è la classica circolare o il rapporto che ci deve essere non assolutamente non dico che non ci deve essere il rapporto semplicemente istituzionale senza scadere però nell'uso che si fa di solito dei canali social che le campagne d'odio o altro sono sotto gli occhi di tutti Angelo scusami mi stanno segnalando che il tempo della sessione è scaduto potremmo potremmo parlarne fin da mai chiudeva le 5 e mezza il tavolo ahia si chiudeva le 5 e mezza potremmo parlare allora io vi faccio una provocazione Alessandra ti provoco perché con Giancarla e con Angelo già li conosco di più frequento di più noi come impara digitale a parte che vogliamo assolutamente continuare questi momenti di approfondimento ma che sia un approfondimento è chiaro che in un'ora l'interazione anche con il pubblico diventa complessa e non c'è tranne qualche domanda e questo mi dispiace molto e chiedo scusa al pubblico che non ha potuto interagire come avremmo potuto voluto però noi come impara digitale con tutti quei relatori che oggi avete visto e con altri ancora abbiamo intenzione di proseguire su questa strada del confronto dell'approfondimento delle proposte delle proposte peraltro noi avevamo fatto questa la voce della scuola che ha avuto anche un bel successo proprio far parlare momenti di riflessione su alcune tematiche quindi il nostro invito come impara digitale sarà nel proseguire gli stati generali diciamo nell'arco dell'anno con degli appuntamenti tematici di approfondimento ampi dove la base deve parlare senza vincoli istituzionali anche se voi siete dirigenti ma liberi di esprimere il proprio pensiero su tematiche per trovare insieme delle soluzioni è un percorso che poi non porteremo avanti fino ai prossimi stati generali che già dobbiamo incominciare a cui dobbiamo incominciare a riflettere sin da domani perché non è che possiamo adesso la registrazione di tutti questi video la vedrete sulla rete in brevissimo tempo perché ci verranno consegnati in brevissimo tempo le consegneremo al ministro che ce l'ha chiesto ufficialmente quindi noi daremo tutte queste riflessioni questi spunti di riflessione anche al ministro ma da domani noi incomincieremo a pensare al futuro alla scuola dell'innovazione alla scuola con una scuola che deve guardare la società che deve guardare i nostri ragazzi i nostri bambini e incominciare veramente a pensare fattivamente come portare avanti una scuola nuova quindi io spero che Giancarlo e Angelo già sono della partita ma spero che anche Alessandra voglia essere con noi in questo percorso Stefano è qui con me che continua a girare e lui è già contato da sempre ma ci sono tante persone che lavorano con noi da Roberto Maragliano tutte le persone che avete visto oggi Bentivogli coinvolgeremo Boeri insomma coinvolgeremo anche personalità del mondo della società del lavoro dell'economia della finanza perché economia istruzione educazione e sviluppo non possono essere separati l'istruzione deve essere la base dello sviluppo quindi coinvolgeremo ancora il professor Bianchi insomma tutti coloro che oggi avete visto quindi io spero che tutti quanti ci possiate ancora seguire per quello che possiamo fare nel nostro piccolo sforzo grande sforzo perché lo facciamo veramente per rivolgerci alla scuola per dare alla scuola un contributo io vi ringrazio tantissimo veramente è stata una giornata molto faticosa soprattutto prepararla vi credete quest'anno è stata una fatica immensa non posso che ringraziare anche chi ha lavorato con noi soprattutto il team di ImparaDigitale Stefania Paola Daniela tutti la regia Matteo Salvi e tutto il suo team eravamo davvero in tanti oggi mi sembrava di essere Mediaset però credo un servizio alla scuola lo abbiamo dato e questo è quello che a noi interessa e vogliamo continuare a darlo posso dire una parola solo per salutare allora io vi faccio solo raccolgo la provocazione felicemente ma vi ringrazio perché io ho ascoltato tantissime occasioni formative veramente seguo in continuazione webinar quello di oggi è stato secondo me un uno dei momenti più intelligenti più acuti e con i maggiori spunti che io ho trovato da marzo ad oggi veramente sono stata felice di ascoltare anche tante cose coraggiose e provocatorie in questa giornata e credo che ce ne sia un gran bisogno veramente di continuare a riflettere proprio su questa piega qui Dianora quindi davvero complimenti perché hai messo in piedi un parterre di teste veramente eccezionali grazie mille e anche grazie a voi ovviamente teste eccezionali della scuola italiana grazie a tutti davvero grazie arrivederci adesso andiamo a riposare grazie a tutti